Ehi, senti una cosa. Io sono Gary, tu sei Julius. Diciamoci qualcosa di noi e facciamo la finita, va bene? Qualcosa di noi? Sì. Possiamo parlare quanto vuoi, ma non saprai mai niente di me. Ehi, senti amico, non ne posso più di questi tre allenamenti al giorno, chiaro? E poi non mi staresti neanche a sentire, sì, sincero. Sapere di noi è l'ultima cosa che vi interessa. Sincero? Vuoi che sia sincero? Sinceramente penso che tu non sia niente. Nient'altro che uno che spreca il talento che Dio gli ha dato. Non vuoi mai dare ascolto a nessuno, nemmeno a Doc e a Boone. Fai un bloccaggio sprecato ad ogni azione, parti a razzo dalla linea e poi niente. Fermalo, spingilo, fa qualcosa. Sottovaluti tutti in questa lega e ogni volta che lo fai, lasci uno dei tuoi compagni appeso a un chiodo, me in particolare. Dovrebbe importarmi qualcosa di te, eh? O di chiunque altro di loro. Parlando di sprechi, tu sei il capitano, no? Giusto. Il compito del capitano è comandare, no? Giusto. Questo è il tuo compito. Questo è il mio compito. E lo fai il tuo compito? Lo faccio il mio compito. Perché allora non dice ai tuoi amici bianchi di bloccare meglio sul Reb? Non hanno portato un bloccaggio decente su di lui e tu questo lo sai. Nessuno fa il suo dovere, te compreso. E io dovrei farmi in quattro per il bene della squadra? Quale squadra? Dimmi! No, no, se devo farmi in quattro. Mi dispiace, ma lo faccio per me e per quello che me ne può venire. Sei bravo. È l'atteggiamento più sbagliato che si possa avere. Sai, il pesce puzza dalla testa, capitano. Non, no, 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 no.